Buonasera, siamo all'ennesima riunione, quella di questa sera con Mario Fioretti, chiuderà quel trittico che abbiamo iniziato con Piero Bucchi con il contropiede e poi è andato avanti con l'attacco e oggi Mario Fioretti, uno dei validissimi allenatori dello staff dell'Armani Gims, vi parlerà della costruzione della difesa individuale. Grazie Mario, buon lavoro. Mi sentite? Buonasera a tutti, grazie ovviamente a tutti. Quello che vi faccio vedere questa sera è la costruzione della difesa che abbiamo usato per anni all'interno del nostro settore giovanile e che siamo arrivati ad usare con il gruppo Andal 17. Io esagero e vado quasi uno in più, quando cambio, lavoro facendo il lavoro di prima, quindi senza aprirmi troppo, boom, lavoro con quasi mezzo passo, non può essere pronto ad andare ancora e lavoro fino a là. quando lui arriva a metà campo partono quelli dietro e guardano l'altra parte. Siamo? Mani dietro, così, bravo. Mani dietro, lavoro con sti piedi, andiamo, vai. Bravo, così, vai. Bravo Andrea, vai davanti, vai davanti. Andiamo, stop.